Coach Mattea su Alforati, te l'hai preparata bene questa partita, bisognava fermare Gray, non c'è riuscito il vieto, ma è riuscito a prendere tre punti, va bene lo stesso. Non abbiamo fermato la Gray, abbiamo fermato Soverato, del resto è veramente una giocatrice di, probabilmente anche di altra categoria, perché stasera ha fatto una partita mostruosa facendo vedere di tutto e di più, tutti i colpi in tutte le situazioni, una completezza veramente incredibile. Per certi tratti della partita siamo riusciti a metterla un po' in difficoltà in ricezione e quello sicuramente era un obiettivo forse l'unico che siamo un po' riusciti a fare nei suoi confronti, però per il resto la squadra ha lavorato molto molto bene, soprattutto dopo un inizio in salita dove loro ci hanno bombardato dalla linea dei 9 metri in battuta e con gli attacchi che non hanno sbagliato praticamente niente, siamo stati bravi a reagire, a ripartire e a iniziare a fare la pallavolo che in questo periodo comunque ci contraddistingue. Quindi alla fine è una reazione molto importante contro una squadra sicuramente molto forte, essere riusciti a portare a casa tre punti è veramente un bel risultato. Adesso nel finale di stagione aumentano il carico di responsabilità, forse aumentano anche le pressioni, ma è aumentata anche la consapevolezza di Orvieto e quindi bisognerà scendere in campo contro squadre che si attendono a un Orvieto di questo livello. Io credo che gli avversari in questo momento già da un po' di tempo vedono comunque la nostra stessa positiva perché sostanzialmente sono 11 vittori in 14 gare se non sbaglio, quindi è un po' di tempo che la squadra sta girando. Quello che adesso farà la differenza è che diminuiscono i giorni di recupero tra una partita e l'altra e quindi sarà un po' un campionato a chi sopravvive piuttosto a chi riesce a mettere in campo il miglior gioco possibile. Quindi ti dico la classifica la guardavo relativamente all'inizio quando le cose andavano male e la guardo relativamente adesso perché l'obiettivo mio è sempre incentrato, sono frasi di rito, ma è la realtà dei fatti, è sempre incentrato una partita alla volta perché purtroppo è un campionato che si è dimostrato più di una volta che i conti poi dopo non tornano mai, quindi è praticamente inutile farli, sembravamo spacciati per la corsa playoff, oggi non so se siamo dentro, comunque ci siamo vicini, sono cose che a 8 giornate alla fine non ha senso fare. Noi devo cercare io di preparare nel miglior modo possibile la squadra ad affrontare gli avversari, le ragazze a continuare con questo impegno immenso che mettono tutti i giorni in palestra e anche secondo me quello che è cambiato un po' ci divertiamo un po' di più quando siamo nel rettangolo di gioco e i risultati ci stanno dando ragione, quindi andiamo avanti e vediamo giornata per giornata cosa succede.